Sono 17 le liste al sostegno di 8 candidati sindaci al Comune di Pescara. A mezzogiorno di oggi si è conclusa infatti la consegna delle liste elettorali presso gli uffici comunali. Non ci sono state sorprese dell'ultimo momento, professore Adario? Assolutamente no, sono state presentate 17 liste e la Commissione circondariale già sta esaminando per l'accettazione di tutte le liste. Nella giornata di oggi e poi continuando domani, domenica, si dovrebbero concludere le operazioni di accettazione delle liste. Subito dopo raccolte queste liste che cosa accadrà, dottoressa Monaco? Noi le stiamo già mandando di volta in volta, ultimata l'attività di verifica da competenza e la documentazione, l'abbiamo mandata alla Commissione che più tardi si è già convocata per cominciare a esaminare le liste. Tra oggi e domani dovrebbe essere ultimata l'attività di verifica della correttezza della formazione delle liste e dopo, presumibilmente lunedì, però certo non è una decisione che adesso è mia ma sarà quella del Presidente della Commissione, ci sarà il sorteggio dell'ordine di lista, insomma di opposizione del simbolo all'interno della scheda elettorale. Otto, come già detto, gli aspiranti sindaci. Sei le liste del centrodestra che appoggeranno la candidatura a sindaco di Carlo Masci, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Udc, Democrazia Cristiana e le civiche Pescara Futura e Amare Pescara. Sono invece tre le liste a sostegno della candidata a sindaco del centro-sinistra, Marinella Sclocco, oltre a quella del Partito Democratico, dove saranno candidati quasi tutti i consiglieri uscenti, ci saranno due civiche, Pescara Città Aperta, costituita da esponenti di sinistra italiana ed MDP Articolo 1, e Sclocco sindaco. L'ex parlamentare Carlo Costantini si candida a sindaco con tre liste civiche, Faremo Grande Pescara, Nuova Pescara e Città del Futuro. Il Movimento 5 Stelle si presenta con una lista a sostegno della candidata a sindaco Erika Alessandrini. Una lista a testa a sostegno degli altri aspiranti sindaci, Gianni Teodoro, correrà con Scegli Pescara, già utilizzata nelle precedenti tornate elettorali. Una sola lista anche per l'ex assessore Stefano Civitarese, candidato con coalizione civica per Pescara. Scenderanno in campo anche Gianluca Baldini, con una lista di impronta sovranista, denominata Riconquistare l'Italia, e Mirko Iacomelli con Casa Pound, di cui è anche responsabile locale. Il primo a presentare la lista ieri mattina, Gianni Teodoro, seguito dall'esponente di Casa Pound, Mirko Iacomelli.